Voglio chiedere un premio Oscar, quante volte fa pipì? Non gli risponda, signor Taylor! Guarda, Ellen, c'è la bottiglia! È stato Rosario Fiorello, il fantastico mattatore della serata conclusiva della cinquantesima edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano, ospitati a Pescara da un teatro d'annunzio straripante come la verve incontenibile dello showman, che ha ricevuto il Pegaso d'Oro per il programma televisivo Viva Radio 2. Dov'hai? Se l'hai portato! Ellen! Stasera che spettacolo, grazie Ellen, thank you very much! Thank you very much! Grazie, vorrei fare come ha fatto Preziosi, alzare il premio così, ma queste danze vuoi! Risate e applausi per lui e per la madrina della serata, l'attrice Helen Mirren, premio Oscar che ha ricevuto il Pegaso alla carriera due anni fa, riconoscimento conferito quest'anno al marito. Il regista e produttore cinematografico e premio Oscar, Taylor Hackford. Rosalini, Tessica, Visconte, Pasolini e Felini sono stati i registi che hanno vervigliato il mio amore per il cinema. Non è mai finito. Nel corso della diretta di Rete 8 condotta dal direttore Carmine Perantuono abbiamo seguito la manifestazione dal tardo pomeriggio con interviste nel backstage fino alla conclusione della cerimonia di premiazione dei vincitori delle sezioni cinema, teatro, televisione e giornalismo. Tanti volti noti del mondo dello spettacolo premiati che si sono aggiunti a un elenco lungo mezzo secolo. Tutto ha avuto inizio grazie al fondatore Edoardo Tiboni al quale è stata dedicata l'edizione di quest'anno. Dopo la sua scomparsa a guidare i premi è la figlia Carla Tiboni che ha ricordato lo scrittore e sceneggiatore Flaiano sulle note di un altro grandegno, il compositore Morricone. La prima a salire sul palco è stata Virginia Raffaele premiata per lo spettacolo teatrale Samusà. Che cozzalone. Giusto? È vero. Posso dire che è veramente surreale ma io ho una cosa in comune con le mirrede. Che cozzalone. La giornalista Martina Riva ha presentato anche questa edizione in maniera ineccepibile e ha intervistato tutti i premiati mantenendo ritmo e attenzione del pubblico. Per il teatro ha ricevuto il Pegaso d'Oro anche Filippo Dini premiato per la regia teatrale del Crogiuolo di Arthur Miller. L'attrice Lucia Mascino per la migliore interpretazione femminile per lo spettacolo Ghiaccio diretto da Dini. Graziano Piazza per la migliore interpretazione maschile per Edipo Re di Sofocle e Red Gunzian per Casanova Opera Pozzo. È bella sta cosa. 50 anni del premio Flaiano. Sì, 50 anni di citra. E 50 anni miei coi pu. Esatto, ma non è anche di più. Il 73 è stato un anno fantastico. È stata la reporter Gabriella Simoni ad introdurre la vice direttrice del TG5 Cesara Bonamici, premio speciale alla carriera, nella sezione giornalismo. Io ti vorrei domandare se il fatto di essere di Fiesole e io di Firenze ti dà un po' fastidio. Ottima domanda. Ma io ti ricordo che Fiesole è venuta prima di Firenze perché gli etruschi c'erano da un bel po'. L'attrice Olivia Magnani ha ritirato il premio conferito alla memoria di sua nonna, la grande Anna Magnani, nel cinquantesimo anniversario della morte. Fatto di film che io personalmente credo andrebbero mostrati nelle scuole. Per la regia del docufilm Oceano Canada, dedicato ad Ennio Flaiano, premio ad Andrea Anderman. Ennio Flaiano amava il teatro, non amava affatto la televisione e sognava di fare il regista di cinema. Sempre per il cinema, per la migliore sceneggiatura del film La stranezza, Pegaso d'Oro, ha Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, che ha ritirato il riconoscimento anche a nome dei due colleghi. Migliore interpretazione femminile per il film Il primo giorno della mia vita, quella dell'attrice pescarese Sara Serraiocco al suo secondo Pegaso d'Oro. Per me è un premio molto importante che posso condividere con la mia famiglia che è qui e con la mia città natale, per cui sono veramente emozionata e contenta. Fabrizio Gifuni, migliore interprete maschile per Esterno Notte, in cui ha vestito i panni di Aldo Moro. Credo che in questo momento più che mai un esercizio quotidiano di memoria sulla nostra storia sia abbastanza utile. Il film è stato diretto dal maestro Marco Bellocchio, al quale è stato conferito il Pegaso d'Oro per la regia. Lui era già stato Moro e io avevo ammirato in modo straordinario quello che lui aveva fatto a teatro, quindi diciamo una cosa eccezionale. A Riccardo Milani, direttore artistico del Flaiano Film Festival, la presidente Carla Tiboni ha consegnato a sorpresa il Pegaso d'Oro, mentre a ricevere riconoscimento per il concorso Opera Prima è stata Marta Savino per il film Prima Donna. Tra le altre cose Riccardo è una persona gentilissima, disponibilissima e questo ci aiuta sicuramente molto nel nostro lavoro e nel costruire il film. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, giusto? Sì, è il terzo. Subito dopo è stata la giornalista e scrittrice Lilli Gruber a salire sul palco e a ritirare il premio alla carriera per il giornalismo dalle mani delle colleghe Maria Cuffaro e Gabriella Simoni. Torna sul campo, abbiamo bisogno anche lì di gente come te. È sul campo. Ma sono sul campo in un altro modo. Ma io ti sento la mancanza. Ma io ti guardo volentieri e questo a me, ma intanto basta. Per la sezione televisione migliore interpretazione maschile, quella di Alessandro Preziosi per la vita bugiarda degli adulti. È stato un regalo enorme che ho avuto dal regista Edoardo De Angelis, che mi dispiace non sia qua, glielo dedico con tutto il cuore. Applausi scroscianti per Luisa Ranieri, migliore interpretazione femminile per Lolita Lobosco. Donna moderna, nel senso di una donna che non deve essere per forza sposata, che non deve per forza volere dei figli. Una donna che ha fatto una scelta differente, ha scelto il lavoro e l'ha messa al centro della sua vita. Una donna piena di conflitti e anche un sacco di fragilità, come sono le donne. Pegaso d'oro per la migliore sceneggiatura. Cristiana Farina e Maurizio Careddu per la serie Mare fuori. Premio migliore regia televisiva Matteo Rovere e Letizia Lamartire per la serie La legge di Lidia Poet, ispirata alla prima donna avvocato d'Italia. Altro personaggio amatissimo dal pubblico, la poliedrica Paola Cortellesi, premiata per la serie TV Petra 2. Sono le 11, le 11, io solitamente dormo da due ore a quest'ora, sogno, io sogno, io proprio sogno a quest'ora. Prima mi ha detto, mi è cresciuta la barba. Senti come la stupenda. I sogni sono desideri di felicità.